C'è ragazzi bentornati sul mio canale YouTube, perdonatemi l'assenza ma in queste settimane il contenuto è stato un po' scarno, adesso sono iniziati secondo me i TOTS per davvero con l'uscita di quelli della Premier League, sono ritornato da Londra praticamente ieri, motivo per il quale non sono arrivate puntualissime le review, però oggi mi faccio perdonare con una bella review XXX Ultra L e ci andiamo a vedere cosa ne penso di tantissimi giocatori a partire da Conatè passando per Odegaard, Carnaggio, Sonno, quanti ne volete? Ragazzi partiamo proprio da Ibrahima Conatè, un giocatore chiacchieratissimo ovviamente di questi giorni trattandosi infatti di una SBC, giocatore che costa 600.000 crediti più o meno e capisco che fa gol a tantissimi di voi, visto che abbiamo tanti fodder tra le mani, tra i vari picchi e vari pacchetti e quindi può tornare comodo sbloccare un difensore con queste caratteristiche. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, parliamo di un giocatore di 1,94 m con work rate normale alto, 3 skill, 3 piede debole ma ci interessa poco, piede preferito destro, come playstyle plus il blocco, il bruiser e l'aereo, quindi il colpo di testa, per un giocatore che innanzitutto si presenta con un body type tall e stocky, vuol dire che questo praticamente all'interno del campo è un bufalo, ovviamente nel senso buono della parola perché prende a pallonate tutti quanti gli avversari, sportellate chi più ne ha più ne metta e in più questo lo facilita tantissimo anche negli autoblock, quindi un punto che depone a suo favore. Per quanto riguarda ruolo ovviamente difensore centrale, partiamo dalle statistiche. 85 di accelerazione con 91 di velocità scatto, chiaramente il giocatore è lengthy, quindi vale più la velocità scatto rispetto all'accelerazione, ma comunque questo è un giocatore rapido, non rapidissimo secondo me per via del body type che un po' lo appesantisce, però è comunque un giocatore rapido che se non si fa battere in maniera incredibile dall'attaccante che sta scattando riesce anche a recuperare molto bene in velocità. Per quanto riguarda i passaggi si presenta con un incredibile 98 di corto e 97 di lungo che comunque in fase di impostazione può sempre tornare comodo. Per quanto riguarda l'agilità abbiamo 80, l'equilibrio 76, la reattività 97. Qui sinceramente andiamo a toccare un tasto leggermente dolente di questo giocatore, perché ho notato che con l'L2 complice anche magari la mancanza dell'affronta, quanto meno argento visto che non ce l'ha proprio, e visto appunto il suo body type sui cambi di direzione l'ho trovato un po' impacciato. Alle volte mi è capitato di concedere dei rigori perché andavo abbastanza a vuoto e questo se vi ricorderete era un po' un problema anche della sua versione Fanta Foot che vi avevo evidenziato scorsa volta nella review e che infatti mi avevate fatto notare anche voi. Quindi onestamente quella reattività 97 per me non lo sentite, anzi è anche peggiorato dal 99 di forza. Poi per quanto riguarda ovviamente le statistiche di difesa parliamo di un difensore clamoroso perché abbiamo 91 di intercetto, 90 di lettura, 95 di contrasto in piedi, 91 di scivolata. Un giocatore questo full automatico, ricorda molto Virgil su questo particolare aspetto, e anche forse un po' troppo automatico se vogliamo, perché appunto vi dicevo che se lo andiamo a selezionare con l'L2 alle volte sembra un po' impacciato, mentre se lo lasciamo lì da solo a difendere, soprattutto con i raddoppi, con le robe, è veramente qualcosa di incredibile. 90 di elevazione, 81 di resistenza, 91 di aggressività, a completare il quadretto. Per quanto riguarda i playstyle abbiamo tutti quelli difensivi, con il blocco plus e il bruiser, quindi la X e la difesa avanzata, anch'esso plus, manca il giokey dell'affronta. Abbiamo poi un driven pass bianco, il rapido bianco, la batteria, l'aereo al plus e il power header. Un giocatore che quindi, vi ripeto, ho trovato molto forte, se vi piacciono questo tipo di difensori per difendervi bassi all'interno dell'area di rigore, un difensore che quindi va lasciato molto lì a far difendere la CPU, meno vi trovereste bene nel momento in cui siete dei giocatori che difendete in modo manuale. Altro giocatore che vi voglio andare ad analizzare è Martin Odegaard, perché anche in questo caso, parliamo di un SBC, di un centrocampista molto 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 interessante. Mezzo milione il suo costo, un metro e ottanta, alto normale, cinque skill, quattro piede debole. Giocatore che secondo me va a fare il diretto concorrente di un altro calciatore dell'Arsenal, uscito recentemente tramite SBC, che è Kai Havertz. Giocatore che costa quasi il triplo, che come work rate ha normale normale, e soprattutto, rispetto a questo Odegaard, ha anche un body type più importante. Per quanto riguarda i ruoli, lui può farvi il CC o il COC. Ah, ricordavo che ovviamente ha la quinta skill come differenza. Rapido, ovviamente, 91 di accelerazione, 88 di velocità scatto, ma visto comunque il body type, e comunque visto il fatto che non è che con i centrocampisti ci dobbiamo fare grandi cavalcate, non vi aspettate che questo si fa delle grandi rincorse. Per quanto riguarda invece il tiro, bene la finalizzazione, soprattutto il tiro dalla distanza mixato a quello che è il playstyle plus del tiro a giro, bene anche il 90 di potenza tiro, bene il 97 di passaggio corto, bene anche il passaggio lungo, 94, che si va a mixare a quello che è il passaggio incisivo come playstyle plus, ovvero del filtrante, che tante volte vi risolve delle situazioni anche in cui siete pressati, sparate un triangolo, visto il playstyle, vi si telecomanda sul vostro compagno di squadra. Molto agile palla al piede, 92 di agilità, 90 di equilibrio, 91 le reattività, in particolare molto bene anche 96 di controllo palla e 93 di dribbling, giocatore che quindi con i micromovimenti, non ve lo dico proprio, si muove che è una bellezza permettendovi al centrocampo di guadagnare del bel tempo di gioco, 81 di intercetto mi ha sorpreso, perché è un giocatore che intercetta veramente tanto, nonostante non abbia il playstyle dell'intercetto anche bianco, è un giocatore che si mette tanto sulle linee, va a dar fastidio, infatti ha anche 82 di lettura difensiva. Quello che gli peggiora le statistiche difensiva è la precisione testa, il contrasto e la scivolata, di cui ci interessa poco, però ottimo quei due parametri lì, che mixati all'80 di aggressività ne fanno veramente un giocatore completissimo. Infatti come siete intesi ho dato un'ancoretta per dargli una mano e migliorare ancora di più questo suo aspetto di gioco. Playstyle Plus, tiro a giro, passaggio filtrante e tiki-taka, questi ultimi due veramente top, anche il tiki-taka che in situazioni di pressing, con i passaggi di prima, ci permette di poterci divincolare molto bene, tiro a giro anche qui bene, bene anche come playstyle bianchi, il tecnico è quello del Driven Pass. Giocatore che io vi straconsiglio, vi ripeto, come mezzala, quindi centrocampo a tre svincolato da qualsivoglia compito difensivo, anche se una mano ve la dà, ed è tutta la vita da mezzala molto meglio di Avers. Ve la butto lì. Per quanto riguarda poi invece giocatori acquistabili sul mercato, partiamo da un altro difensore che mi avete richiesto in tantissimi, che è questo Saliba. Giocatore di 1,93m, normale altro, 3 skill e 3 di piede debole. Per quanto riguarda la posizione, ovviamente, solo e esclusivamente da dc, questo è stratosferico. Avete presente Militao, benissimo, lui è un Militao con i superpoteri, playstyle plus dell'intercetto, del procione e della scivolata. Accelerazione 84, velocità scatto 91. Ottimi passaggi, si muove benissimo con l'L2, lui sì, 94 di reattività, 70 di agilità e 70 di equilibrio. Per quanto riguarda le statistiche di difesa pazzesche, lui rispetto a Conatè è meno automatico, perché visto i suoi playstyle richiedono di andare a fare anche magari il contrasto per attivare il procione, però è tanto automatico visto quell'intercetto che gli si attiva praticamente sempre e infatti ha 91 di intercetto e 94 di lettura difensiva. Per quanto riguarda la forza e l'aggressività, 93 e 92 lo rendono anche qua difensore d'elite, tutti i playstyle difensivi tranne il blocco, benissimo l'Aerial seppur bianco, questo veramente un giocatore che a me è piaciuto tantissimo. Infatti vi spoilerò che lo metterò anche nella mia squadra, soprattutto qualora dovessi piccarlo. Per quanto riguarda lo stile di intesa, ombra e lui, se vi piacciono giocatori per aggredire alto e recuperare il pallone con i contrasti, è veramente perfetto. Veniamo al mio sosia, Alejandro Garnasio-Riberoschi, non Ferreira, giocatore che ovviamente parte del ruolo di esterno-sinistro, 1,80m, playstyle plus, tiro a giro, razzetto e rovesciata, 5 skill, 4 piede debole, può fare anche le S, un giocatore rapido, ma non rapido quanto la carta vuole dirci, perché con i doppi passi comunque speed boosta bene, ma non benissimo, alle volte viene un po' recuperato per via delle gambettine. Molto bene la finalizzazione davanti la porta, soprattutto col tiro a giro, quindi non pensate che il tiro a giro deve essere per forza da lontano, ma davanti la porta è un'opportunità per poter segnare con questo Garnasio in più clamorosa. Bene il passaggio corto, meno il lungo, giocatore molto agile, palla al piede, 98 di agilità, 99 di equilibrio, 92 di reattività, si sentono tutti, bene anche l'87 di resistenza, bene i playstyle, perché bene il tiro a giro e il razzetto, meno le rovesciate, però poi ha il tecnico bianco e bianco ha anche il passaggio incisivo, il calibrato e il passaggio lungo, quindi un giocatore completissimo, che lì a sinistra può essere assolutamente una opzione, visto anche il prezzo, perché 350.000 crediti praticamente è molto concorrenziale. Per quanto riguarda, altro giocatore interessante è questo invece col Palmer, 1,89 per lui, 5 skill, 4 piede debole, 1,2 milione il costo, giocatore che io ho provato, sia da esterno che da terquartista, che da mezzala. Diciamo per quelle che sono le sue caratteristiche, un giocatore veloce, ma che con i doppi passi, per via della sua fisicità, non prende chissà quanto campo, un giocatore che ha un ottimo tiro, ma dalla distanza, nonostante il playstyle, alle volte se li caga, i tiri a giro, bene i passaggi, agilità 98, viene botto penalizzato dalla sua stazza, visto che è un giocatore grosso, un po' weird, palla al piede, un po' strano. Per quanto riguarda invece, le statistiche difensive, non sono chiaramente delle statistiche difensive clamorose, però sono delle statistiche difensive, che gli permettono di poter dare il meglio, secondo me, nel ruolo di mezzala, visto anche comunque un work rate decente, l'alto normale, 86 di forza e 75 di aggressività. Vi dicevo dei playstyle, il tiro a giro, ma soprattutto questo tecnico, motivo per il quale io l'ho preferito, che partiva da lontano, ovvero da mezzala o da trequartista, bene anche il passaggio incisivo, il tiki-taka, male onestamente, un po' questi playstyle, che non mi hanno convinto tantissimo, mi sarebbe piaciuto un rapido argento, che questo Palmer me lo faceva rendere molto di più. Quindi, ve lo sconsiglio onestamente da esterno, o da TS, a TD, ve lo consiglio tanto da mezzala, o da trequartista anche lui. Veniamo a Son, su Son ci sono rimasto un po' male, perché rispetto alla sua versione foot birthday, è vero che c'è un playstyle in più, però non è che sono sti gran playstyle, perché hanno messo il pallonetto e il microonde, oltre al tiro a giro che già aveva, e in più sto Son, non è che corre chissà quanto in più, rispetto all'altro Son, e soprattutto c'ha la quinta di piede debole, non la quinta skill, che per un esterno è abbastanza inutile, quindi io, piuttosto che pagarvi sto Son, un milione e tre, ma andrei a prendere tutta la vita, Son birthday, che costa 700k. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti, cosa pensate di questi giocatori, se qualcuno di questi, lo avete provato, o sbloccato, nel caso dell'SBC, io vi ricordo che sono in live, tutti i giorni, sulla piattaforma viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone a vostri Beroschi, e a presto, ciao!